Quello che per legge è previsto che entri, quello che per legge è previsto che non entri non è entrato. E' una norma che prevede in maniera molto chiaro tutto. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, le perizie, le fotografie scattate dalle forze dell'ordine spagnole e le risultanze dell'autopsia eseguita in Spagna entreranno a far parte del fascicolo. Da questi elementi infatti prenderà avvio il processo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa d'Imperia morta precipitando da un balcone di un hotel alle Baleari nell'agosto 2011. Si è svolta infatti mercoledì mattina una nuova udienza di fronte al gruppo Pier Giorgio Ponticelli nella quale è stato deciso quali atti fare entrare all'interno del fascicolo. A processo due giovani di Castiglion Fibocchi, Luca e Alessandro, accusati di morte come conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale. Il processo prenderà avvio il prossimo 13 febbraio. Abbiamo impiegato circa due ore di tempo per fare l'elenco con affogliazione per affogliazione, per cui è impossibile riepilogarle. Però, per esempio, le intercettazioni ambientali e telefoniche entrano. Le rogatorie no, quindi per capirsi chi è stato sentito con rogatoria dovrà essere risentito in contraddittorio. Dunque non entreranno a far parte del fascicolo le rogatorie internazionali con le testimonianze raccolte dalla Polizia Giudiziaria Spagnola, tra queste quella dell'unica testimone oculare, la Cameriera Franzisca. I testi potranno ovviamente essere chiamati in aula testimoniare. Vi sarà interesse, come immagino da parte di tutti, peraltro, a sentire questo testimone dovrà essere risentito con le forme della rogatoria garantita, cioè in contraddittorio.